Le radiazioni cosmiche costituiscono una forma di energia proveniente dallo spazio esterno che penetra nell'atmosfera terrestre. La loro origine è associata a fenomeni di grande energia e processi astrofisici nel cosmo. Le eruzioni solari o brillamenti solari emettono particelle cariche e radiazioni che possono raggiungere la Terra. Oltre al Sole, altre sorgenti cosmiche come stelle, pulsar, quasar e supernove generano radiazioni di altissima energia. Le particelle cariche provenienti dallo spazio interagiscono con le molecole dell'atmosfera, generando una cascata di particelle più leggere. Le collisioni danno origine a particelle secondarie come muoni, neutrini e mesoni che raggiungono la superficie terrestre. Le radiazioni cosmiche possono avere effetti sulla salute umana, sebbene la maggior parte venga assorbita dall'atmosfera e dalle strutture geologiche. Le particelle ad alta energia ionizzano l'atmosfera, creando uno strato di elettroni liberi noto come ionosfera. Diversi strumenti e rivelatori vengono utilizzati per studiare e misurare le radiazioni cosmiche sia dallo spazio che sulla Terra. Lo studio delle radiazioni aiuta a comprendere la composizione, l'evoluzione e i processi nel cosmo, inclusi i meccanismi delle supernove e le proprietà dei buchi neri. La comprensione di questo fenomeno è cruciale per la protezione degli astronauti durante le emissioni spaziali. Le radiazioni cosmiche hanno impatti nell'ambito della radioterapia e nell'uso di strumenti diagnostici come i raggi X. Le radiazioni cosmiche, provenienti da fonti esterne al nostro sistema solare, svolgono un ruolo significativo nella comprensione dell'universo e hanno implicazioni rilevanti in ambito scientifico, tecnologico e medico. Lo studio di queste radiazioni non solo ci aiuta a comprendere l'evoluzione dell'universo, ma anche a sviluppare soluzioni per la protezione della vita umana e l'innovazione tecnologica nello spazio e sulla Terra.